Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale Profumi e Balocchi. Io sono Antonella e oggi sono qui per parlarvi di una fragranza meravigliosa che si divide un po' fra il sacro e il profano, pur non avendo quel nome. Ha un altro nome che però si divide molto fra il sacro e il profano per il semplice fatto che da una parte è una fragranza molto mistica ma dall'altra è una fragranza molto sexy, sensuale. E sto parlando, per farla breve, del mitico, meraviglioso, stupendo Christos dei Giardini di Toscana. Questa è la boccetta, come tutte le altre boccette dei Giardini di Toscana. Come sempre la mia luce non mi permette di mostrarle al meglio questa boccetta di pesantissima, bianca, il tappo è di legno, questo è ancora uno di quelli con il marchio inciso, non si vede proprio, sul tappo. E devo dire che è stata una scoperta stupenda. L'ho scoperto proprio per caso perché avevo cena qui da noi qualche settimana fa, una coppia di amici, e lui è abbastanza appassionato di fragranze e mi ha detto, tu che conosci profumi, non sono un esperto ovviamente, hai mai sentito parlare di Christos, dei Giardini di Toscana? E lui ha detto, no, io dei Giardini di Toscana ho Bora Bora, che lo uso d'estate, ma lo uso anche in inverno perché comunque ha una dolcezza zuccherata molto intensa, l'ho usato anche in inverno. Però questo Christos mi ha detto, guarda, un mio amico ce l'ha, mi ha detto che è meraviglioso, però io prima di comprarlo non mi fido, vorrei sentirlo, prima gli ho detto, eh sì, non comprare mai al buio i profumi, quindi provalo da qualche parte. Io però, incuriosita, sono andata su Pragrantica a leggermi le note e le note mi hanno conquistata letteralmente subito, perché sono proprio le note dei profumi che piacciono a me, un po' incensato, un po' cremoso, un po' vanigliato, molto speziato e molto orientale. Io ho chiesto un po' in giro nei gruppi, nei miei gruppi amici, se qualcuno ce l'aveva magari lo discontinuava, lo tralasciava, magari non gli piaceva, lo svendeva, perché non aveva voglia di spendere 130 euro, proprio perché era un acquisto al buio, però io quando sento le note, scusate se guardo fuori, ma ho la gattina sul balcone e la sto tenendo d'occhio, che non cada. Però quando leggo le note, che sono proprio le mie note del cuore, difficilmente sbaglio, e infatti questa volta non ho sbagliato, l'ho scambiato con una mia carissima amica, che si chiama Adele, spero che mi stia seguendo, io seguo lei, è famosa Dolcea The Rock, chi non la conosce, questa bellissima ricciolona, che ogni tanto cambia colore dei capelli, io la adoravo quando era rossa, ma adesso è pionda, e sta veramente bene anche così. Quindi lei mi ha detto, io ce l'ho, non lo uso, perché per me è troppo forte, io quando ho detto troppo forte, ho detto, è mio, è mio, perché i profumi bomba sono proprio i miei. Lo sto usando ancora per poco, perché non è decisamente né primaverile né estivo, è una bombazza meravigliosa invernale. Allora ci siamo scambiate dei profumi, e mi è arrivata questa cosa spettacolare, veramente un sogno, un sogno. Uno dei più buoni, io ne ho tanti che adoro, lo dico sempre, mi innamoro dei profumi, adoro i montali, adoro i mansera, adoro i nobile, e sto iniziando ad adorare veramente anche i giardini di Toscana, perché già appunto Bora Bora ne vado pazza, e questo devo dire che è un capolavoro di, appunto, che si divide fra il sacro e il profano. Allora, sacro perché? Perché apre con un incenso bombatissimo, speziatissimo, io sento della cannella, dopo vado a leggere le note, al momento non me le ricordo a memoria, però io sento un incenso fortissimo, liturgico, sento qualcosa di animalico, di terroso, sento la cannella, del pepe. Ma queste note, che potrebbero essere prettamente maschili, dopo un po' di tempo, si addolciscono e subentra questa vaniglia, che va a ammorbidire, ad amalgamare il tutto, a bilanciare, quello che è veramente un capolavoro, sexy, sensuale, è unisex, su di me sta da Dio, perché proprio io l'ho usato, e complimenti appalate da tutti, anche perché quel giorno faceva ancora abbastanza freddo, quindi adesso lo ritiro, e lo userò da ottobre in avanti, è veramente una delizia, molto sensuale, sexy, elegante, serale, misterioso, un po' cupo, un po' gotico, un po' dark, insomma, tutto quello che a me piace in un profumo, quindi, vi leggo le note, stanno guardando giù, spero, allora, vi leggo le note di questa meraviglia, dei giardini di Toscana, che si chiama Christos, già il nome, mi aveva già ispirato bene, allora, gli accordi principali sono, ambrato, legnoso, balsamico, spezzato caldo, fumoso, vanigliato, è un profumo invernale da sera, però qua viene indicato anche, sì, per il giorno, per l'autunno, però, decisamente io non lo uso di giorno, questo profumo, è un profumo proprio, molto notturno, molto serale, appunto, la notte, un po' il mistero della notte, no? Allora, questo Christos, è una fragranza del gruppo Unisex, è una nuova fragranza, lanciata sul mercato, del 2023, il naso di questa fragranza è Silvia Marine Martinelli, allora, in testa troviamo incenso, ambra extreme e bergamotto, allora, mi sono informata, l'ambra extreme è una nota, eccola lì, è una nota sintetica dell'ambra, praticamente, se riesco a spiegarmi, se sbaglio, correggetemi, elevata proprio al massimo della sua potenza, per quello che questa persistenza, è così tenace, sui vestiti addirittura, io l'ho usato una settimana fa, e l'ho spruzzato quando avevo ancora la tuta, prima di vestirmi, mi è rimasto sulla tuta, la sta usando in questi giorni, mi sento questo profumo, che mi è buonissimo, veramente favoloso, quindi, ambra extreme e bergamotto, nel cuore troviamo il paciuli, il labdano o labdano e la rosa, nelle note di base ci sono incenso, sandalo, pepe rosa, vaniglia, benzina e ambra, quindi la cannella non c'è, però al mio naso arriva questa cannella, la sento proprio presente, ma probabilmente il pepe è miscelato in queste note, io cerco di spiegarmi al meglio, perché io non sono brava, non conosco neanche le famiglie olfattive, ve lo descrivo a modo mio, fatto sta che questo Christos, veramente, è stato là, non si vede quanto ce n'è mai pieno, è pienissimo, e devo dire che veramente, io sono pazza di questa fragranza, tra l'altro questo ragazzo che mi aveva chiesto, subito gli ho comunicato, ce l'ho, e allora gli ho fatto io un decantino, e anche lui mi ha detto che è buonissimo, e lo comprerà però, appunto per la stagione più fresca, perché adesso che arriva la primavera, decisamente non è un profumo per la primavera, non è estivo, neanche nelle sere d'estate lo indosserò, perché è proprio un profumo caldissimo, caldissimo, sensualissimo, c'è di tutto qua dentro, c'è l'amore di Gesù, quando la sua passione, la sua passione per fare il bene al popolo, però subentra questa vaniglia che lo addolcisce, lo rende sensuale, perché comunque anche il Cristo aveva una nota sezzuale, quella sensualità un po' mistica, un po' misteriosa, io mi sto continuando a ripetere, però questo è quello che mi dona, che mi regala questa fragranza, allora devo dire una cosa di positivo comunque, mi ricorda molto nel dry down, mi ricorda molto nel dry down, il dark vanille di Montale, oh buongiorno signorina, buongiorno, buongiorno, ciao, ciao ciao, sono venuta a rovinare il video, ma non è vero, lei è il mio amore, lei è meravigliosa, veramente, siamo sempre più innamorate, dormiamo insieme, l'altra notte ha dormito sul cuscino con me, la signorina, e io nel dormivelio sentivo questi pelini morbidi e caldi, che mi accarezzavano il viso, è stata una sensazione stupenda, dicevo, mi ricorda molto il dark vanille di Montale, mi ricorda molto lo shagaf, lo shagaf, quello arabo, quindi se vi piacciono questi generi, questo è orientale all'ennesima potenza, proprio il top, il top, non dico che sono gemelli, perché non sono gemelli, questo ha questa apertura violenta, molto violenta di incenso pepato e liturgico, ma poi quando questa nota, che può anche far arricciare il naso, si placa e subentra questa nota dolce, il paradiso, veramente, non ho più parole da usare, io sto cercando di tirare un po' lungo, però dieci minuti sono passati, e di più non posso dirvi, vorrei vedere quanto ce n'è realmente, perché pesa un casino, quindi a delle state così carine, da darmelo intero, veramente intero, e comunque, pochi spruzzi, perché poteste appestare, tutta la stanza in cui vi trovate, le persone magari non possono, non gradiscono questo genere di fragranza, che io ritengo stupenda, meravigliosa, un'opera d'arte, veramente, Christos è un nome che fa pensare a mille cose, però Christos è anche veramente, la sensualità, la sensualità primordiale, allo stato puro, io più di così non riesco a esprimermi, quindi il mio video è stato breve, spero che l'abbiate apprezzato, per chi volesse sapere il mio rossetto di oggi, mi piace fare questa piccola, così, si parietto, il piccolo si parietto del rossetto, è questo stupendo, Chanel, è un rossetto morbido, con delle pagliuzze, che ovviamente non si vedono, quindi è uno sparkling, se si dice così nel gergo, pagliuzze dorate, il numero è, ovviamente non lo vedo, ma questi, 08, allora Chanel, numero 08, che è questo, che non è fucsia, sembra fucsia ma non è, è un rosa molto scuro, tendente al bordeaux, ed è veramente spettacolare, non ha una tenuta infinita, perché è morbido, non è un matte, però veramente, è meraviglioso, meraviglioso, tanto a parte Chanel, è Chanel, in tutto quello che fa, quindi io vi ringrazio, per avermi seguito, in questo video sconclusionato, abbiamo parlato di Christos, dei giardini di Toscana, che sale in vetta, ai miei profumi preferiti, al terzo, secondo posto, però io li amo tutti, del resto, che devo fare? Abbiamo parlato di questo bellissimo rossetto, di Chanel, che è uno sparkling, quindi è sberlucicante, e basta, quindi io vi scrivo qui sotto, nell'info box, il nome del profumo, e il nome del rossetto, e penso proprio che oggi, salutiamo tutte le nostre amiche, amore, penso proprio che oggi, ci sarà qualche altro video, eh amore, parliamo di qualche altro profumo? Sì, va bene, e quindi vi saluto, vi do appuntamento a breve, tra poco, per parlare di fragranze, un po' particolari, ciao, ciao.